19 pagine di Juncker non risolvono quello che voi avete combinato con la gestione dei migranti in Italia. Ci sono situazioni territoriali allucinanti. Noi abbiamo persone disoccupate, lasciate allo sbando e profughi che voi tramite i prefetti avete messo in alberghi quattro stelle. È inaccettabile questa situazione. Ma dal punto di vista dell'equità e della giustizia sociale